Sono Suor Maria De Coppi, una missionaria comboniana. Sono da più di 50 anni in Mozambico. Ormai mi sento parte di quella terra e di quel popolo dove ho vissuto la mia vita. Si presentava con queste parole nell'ottobre dello scorso anno Suor Maria De Coppi nell'intervista realizzata dalla direttrice del Centro Missionario Diocesano di Vittorio Veneto, Maria Grazia Salmaso. La partenza da giovanissima, 59 anni fa, un viaggio per mare di 31 giorni per raggiungere la provincia del Mozambico divenuta la sua casa, Nampula. Momenti belli e momenti duri, raccontava la missionaria comboniana, che era scampata tra i precedenti agguati e aveva ripercorso il più drammatico. Io ricordo un'imboscata che ho preso e in quel giorno sono morte 17 persone. Si viaggiava in convoglio, no? E poi si è sentito sparare e tutti hanno tentato di fuggire. E anch'io sono scesa dal carro, dalla macchina, ho tentato di arrestarmi per terra perché non si poteva scappare in piedi, perché arrivavano le palottole, no? E mi ricordo che lì ho gridato, ho detto, signore salvami, non lasciarmi morire qui sotto le palottole. Ha vissuto il tempo della guerra e quello della pace, suor Maria. Cos'è che accade? Cioè, questi guerriglieri arrivano e uccidono chiunque? E ammazzano e distruggono, distruggono le chiese, distruggono le scuole. Anni particolarmente duri, gli ultimi tre, spiegava. Lei, impegnata nell'aiutare la popolazione locale, dove le comboniane gestiscono un convitto e aiutano come possono le famiglie in fuga dai conflitti o messe in ginocchio dalla carestia, padri e madri che non hanno nulla da dar da mangiare ai figli. Poi vengo in Italia e vedo che qui non manca niente e si lamentano. Ma come? Aiuti i materiali, ma non solo. Bisogna saper ascoltare, diceva, nel profondo. Quando senti la storia, la loro vita, senti che c'è una presenza di Dio anche in loro. Quando sono andata giù le prime volte nel tempo coloniale, loro si sentivano come disprezzati, perché è nero, no? Mi diceva, non so, Maria, questa pelle è qui, questa pelle è qui. Io dicevo, signore, fammi nera. Perché mi feriva a sentirli così. Dico, ma non sono persone come noi. Quella dell'ottobre scorso è stata la sua ultima volta in Italia. Continuiamoci a sentirci uniti, no? Uniti anche nella preghiera che non conosce distanze, no? Eppure l'amore non conosce distanze, no? Io ritorno molto volentieri, ormai ho vissuto là, è la mia terra. È una preghiera per me e per il mio Mozambico.